Avevano imbrattato i muri e le scale della scuola media Ghittoni di San Giorgio il 2 gennaio scorso, con scritte offensive. Le telecamere li avevano ripresi mentre si trovavano in zona, ma è stato grazie alle indagini dei carabinieri se alla fine hanno ammesso le proprie responsabilità. Sono sette ragazzini del paese, tra i 15 e i 17 anni, uno di loro studente dell'Istituto Danneggiato. Sono stati rintracciati dai carabinieri di Piacenza in collaborazione con i militari di San Giorgio, la Polizia Municipale della Valnure e l'aiuto dei cittadini. Quando i ragazzi con i rispettivi genitori sono stati convocati al comando dei carabinieri, in un primo momento hanno negato, poi hanno ammesso di aver commesso il fatto. Sì, siamo stati noi. A quel punto le famiglie hanno preso atto e si sono dimostrate disponibili a risarcire il danno che supera i 3.000 euro. I sette ragazzi sono stati comunque denunciati in stato di libertà per danneggiamento aggravato in concorso al Tribunale dei Minori di Bologna. Devono capire che una bravata così non può restare impunita, ha spiegato il comandante dei carabinieri di Piacenza. Non intendiamo transigere sulla punibilità di fatti anche minimi. Il danneggiamento di una scuola con danni alla comunità per 5-6.000 euro non è tollerabile, anche se può sembrare una sciocchezza. Per cui noi comunque, anche se si tratta di minori, procederemo. Questo non significa che poi un'azione di tipo educativo e anche la possibilità che è stata data dal Sindaco di San Giorgio di collaborare al ripristino dei luoghi e quindi rimettere in sesto quello che era stato danneggiato, comporterà sicuramente una maggiore sensibilità da parte del giudice di giudicare questi ragazzi. La cosa essenziale è che si deve comprendere che questi sono atti che non sono tollerabili e che verranno comunque sanzionati e per i quali faremo comunque indagini, così come si trattasse di un furto o piuttosto di uno spaccio di stupefacenti. Il Sindaco di San Giorgio, che all'epoca dei fatti aveva presentato denunce ai carabinieri, ha avuto un ruolo chiave assieme ai comitati di vicinato per arrivare alla soluzione del caso e ha annunciato che verranno installate altre telecamere e le scuole messe in sicurezza. Questo lavoro eccezionale che si sta portando avanti, insieme anche alla collaborazione del vicinato, ci sta dando degli ottimi frutti, quindi i reati in generale sono diminuiti, i danneggiamenti non vanno fatti, i soldi che si impiegano per il ripristino dei danneggiamenti sono soldi pubblici, quindi sono i soldi, bisogna far capire questi ragazzi, sono i soldi delle famiglie. Un ruolo fondamentale è stato anche ricoperto dalla Polizia Municipale Valnure. Noi siamo per l'aspetto della prevenzione, ci siamo tutti i giorni, facciamo attività nelle scuole sia come attività scolastica come extra scolastica, ma il punto focale è la famiglia.